Sì, grazie Presidente. Come già ha anticipato l'assessore, si tratta ovviamente di un documento prettamente tecnico, oltretutto risponde a uno degli obblighi a cui l'ente è sottoposto. Devo dire che vedo il discorso in commissione, e la ringrazio per questo, è stata presente la dottoressa Ielli che ha partecipato poi ovviamente alla stesura in prima persona del documento che ha illustrato ai consiglieri presenti gli aspetti salienti del provvedimento e quindi del regolamento. È stato anche ribadito che ovviamente si andrà a gara europea per questo tipo di servizio. La gara europea ovviamente richiederà dei tempi, per cui è stato ribadito che il servizio avrà decorrenza possibilmente dal 1 gennaio 2018, ma molto più probabilmente all'assegnazione gara, quindi probabilmente un po' dopo. E avrà durata, come già detto, di 60 mesi. Non avendo ovviamente nessun tipo di obiezione rispetto alla necessità di validare questa proposta di delibera il prima possibile, proprio per dare tempo, avere il più tempo possibile per l'esplitamento della gara europea, annuncio il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle. Grazie.